In volo con voi è un salto, è voglia di amm... Yassin Eluati, cosa hai mangiato? Perché stasera insomma hai fatto una grandissima partita. No, ho mangiato Dullapolo, abbiamo lavorato molto bene queste ultime settimane e oggi abbiamo fatto due prime set molto molto bene, dopo un po' di lassato ma con la grinta eravamo carichi per vincere il quinto set. Si sapeva comunque che oggi con Sora sarebbe stata difficile, un peccato poi però che si è data l'opportunità a Sora di riaprire la gara. Sì, perché all'inizio giochiamo molto bene, il terzo set è sempre difficile di chiudere la partita. Per me era molto vicino, molto strano anche perché a 23 pari abbiamo questo cambio palla si gioca a niente, c'è un Nessie che tocca la linea di niente. Ok, va bene, il quarto set era molto difficile di riprendere un po' di ritmo. Sì, un po' strano perché non dobbiamo lasciare la partita così. Almeno abbiamo fatto un molto molto bello quinto set. Senti, per te è la prima stagione in Italia, adesso con Padova sembra che stai pian piano entrando nei meccanismi. Come ti sembra questo campionato e come stai vivendo tu questa esperienza? Sì, è molto importante avere le basi solide perché dobbiamo giocare come squadra perché ci sono tante squadre come la nostra che possono fare grandi partite anche fuori casa che gioca a un palavolo molto regolato. Dobbiamo avere qualcosa di più, un po' di cuore. Sì, lavoriamo questo ogni giorno e si paga un po'. In volo con voi è un salto, è voglia di andare... La nostra vita è un salto, è un salto, è un salto. Grazie a tutti.